La musica del mare è il libro che ho scritto a seguito della mia esperienza come navigatore solitario che riassume anche un po' la mia carriera come musicista e racconta di questo viaggio che ho fatto per la prima volta quattro anni fa senza una grande esperienza di vela da Marsiglia fino a Istanbul quindi descrivendo tutti i luoghi meravigliosi che ho visto e analizza quella che secondo me è la relazione che c'è tra il mare e la musica ho venduto casa e sto sei mesi l'anno a svernare attualmente a Napoli e gli altri sei mesi sono in navigazione da solo quest'anno sono stato nelle Geo, poi ho risalito tutta la costa adriatica orientale e sono arrivato fino alla Barcolana dove ho partecipato alla regata anche in solitario e adesso sto ridiscendendo la costa adriatica anzi ho ridisceso la costa adriatica e sto risalendo per il Tirreno per tornare finalmente a Napoli Grazie 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 a tutti.